In diretta dal Salone Siamo a Torino nello spazio Book Sprint Edizioni in compagnia di un altro autore, Maurizio Rossi che oggi ci presenta un romanzo davvero interessante Fratelli di Sangue, uniti in un destino comune Benvenuto Maurizio Grazie Allora Maurizio parliamo subito di questo romanzo un romanzo avvincente che ha e vede due protagonisti Sì, sono due protagonisti La storia si incentra negli Stati Uniti I due protagonisti sono un ex militare un ex marine della guerra in Vietnam che quando torna a casa ha qualche problema e un altro ragazzo che ha un'esperienza tragica cioè i suoi genitori vengono bruciati letteralmente da un rappresentante della legge del paese Questi due protagonisti seguono delle loro storie il marine che è un indiano comance ritorna alla sua tribù e qui si vede un pochino il problema di come vengono trattati gli indiani nelle riserve che li hanno destinati i bianchi Sì, perché uno è di colore e l'altro no Sì, l'altro è un indiano comance Diciamo che viene assoldato prende una brutta strada questo indiano perché viene assoldato da un ex colonnello del Vietnam che lo trasforma in un killer data l'esperienza fatta nel periodo di guerra con le armi eccetera Il ragazzo invece viene inizialmente perché va via dal suo paese perché non ha più nessuno viene ospitato da una zia poi ha dei problemi con lo zio e quindi va a vivere da solo in un'altra città e le due storie di questi due personaggi alla fine si incontrano in una certa piazza dove sta succedendo un attentato terroristico di cui il protagonista dovrebbe essere il ragazzo di colore in realtà il ragazzo di colore prima di compiere questo attentato decide di condurre il gioco per conto suo per smascherare l'assassino dei genitori L'indiano invece dall'alto di un grattacielo dovrebbe colpire il governatore perché la vittima dell'attentato condotto in una maniera o nell'altra è il governatore dell'arizona L'indiano che dovrebbe in caso non funzioni l'attentato dovrebbe essere lui l'esecutore del governatore e in realtà salva il ragazzo dal suo assassino e così diventano fratelli Perché lo salva? Lo salva perché in pratica ha capito che la storia con il colonnello lui era sfruttato da questo colonnello sta finendo come finiscono un po' drammaticamente le storie di tanti killer Lo salva perché nella visione dello sciamano della sua tribù lo sciamano gli dice che potrà essere salvato la sua vita potrà liberare il protagonista si chiama Eagle l'aquila ma in realtà l'aquila non libera nel cielo perché viene trattenuta da un serpente questo serpente è il colonnello lo sciamano della tribù gli dice che riuscirà a sconfiggere il serpente solo se si allea se darà aiuto al bisonte il bisonte in realtà nelle tribù indiane gli uomini bisonte venivano chiamati i neri perché hanno i capelli ricci che sono uguali al mantello del bisonte quindi praticamente salvando il bisonte salva se stesso allora questo patto di sangue poi quando avviene? ma avviene avviene più tardi e per caso diciamo perché poi i due personaggi si lasciano il ragazzo di colore Jake non sa neanche chi è questo indiano comance però una volta vedendo il servizio sulle tribù indiane ha la sensazione di conoscere uno degli sciamani di questa tribù perché poi Eagle ha finito le sue storie se ne torna a casa e vive nella tribù e così si ritrovano alla fine stringono un patto di sangue che è secondo una scenografia indiana insomma è certo a volte anche vista e rivista in alcuni film siamo venuti una scena abbastanza familiare per tutti noi perché questa scelta di questo patto tra l'indiano quindi tra il bianco e il nero beh perché hanno nella strada che hanno intrapreso tutti e due alla fine si trovano a combattere un unico nemico non dico la scelta dei due protagonisti da cosa ti è stata dettata diciamo quasi esclusivamente dalla fantasia però io conosco un indiano Lakota che ha fatto la guerra in Vietnam che si chiama Little Elk e poi finita la guerra in Vietnam è tornato nella sua tribù con grossi problemi perché tutti quelli che sono tornati dalla guerra in Vietnam quelli che l'hanno fatta non quelli che sono stati di dietro e che poi si trovano nei posti di comando negli Stati Uniti attualmente si è trovato a fronte di grossi problemi di alcolismo non dormiva di notte eccetera che è riuscito a superare e da questo ho tratto un pochino la figura di Eagle anche se in realtà poi Eagle prende una strada completamente diversa anche se lo fa per aiutare la sua tribù però è una strada di morte che segue anche se sfruttato dal colonnello eccetera diciamo che è l'amicizia che vince sempre beh in questo caso particolare sì vince contro ogni razza contro ogni religione contro ogni etnia contro ogni situazione questo è anche il messaggio forse del libro forse anche il messaggio del libro beh il messaggio è anche questo che poi c'è un altro personaggio che è un fuoriuscito cubano e lì questo fuoriuscito mette in risalto una situazione dei cubani che sono scappati da Cuba per andare soprattutto in Florida poi comunque sono messaggi importanti qual è il lettore ideale del libro ma il lettore del libro può essere un lettore di thriller di gialli di thriller non molto impegnati che si lasciano leggere velocemente cioè se facessi riferimento a me stesso potrei dire che il lettore di questo libro potrebbe essere uno che ha letto che ha letto tutti i libri di John Grisham e invece in quanto tempo l'hai scritto ma ci ho messo tanto circa dieci anni però diciamo che la parte preponderante del libro l'ho scritta l'anno scorso in Australia quando sono andato giù sono rimasto un mese per la nascita del nipotino però nel frattempo ho anche scoperto siccome questo libro l'ho scritto tutto a mano parzialmente al mano inizialmente poi quando sono andato a trasformarlo sul computer è come se l'avessi rifatto e hai apportato degli accorgimenti sì diciamo che in realtà la maniera migliore per scrivere ha messo che uno ne abbia voglia che abbia le motivazioni il pallino di scrivere eccetera la motivazione eccetera eccetera è quella di mettersi a computer perché quello che arriva dalla propria testa arriva sempre molto velocemente e se lo riesce a mettere sulla carta subito è la cosa migliore perché se come ho fatto io ci si mette a scrivere a mano beh si perde un sacco di tempo e la fantasia è più veloce della mano che scrive e quindi si perde sicuramente qualcosa quindi consigli il computer tu sì sì più veloce sì sì bene allora Maurizio noi ti auguriamo davvero di avere tanto successo con questo libro e poi magari scriverne già subito un altro siamo in elaborazione o ancora no? no io ne sto scrivendo un altro sono già arrivato a una cinquantina di pagine che ho scritto nel giro di tre giorni adesso sto aspettando di maturare la fantasia e la motivazione per accoppiare a questa prima parte una seconda parte di storia per il momento leggete Fratelli di Sangue uniti in un destino comune di Maurizio Rossi grazie per essere stato con noi grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti